Persone, spazi, modalità. A Bologna Fiere, la tua fiera è sicura. Per garantire la sicurezza delle persone, l'accesso alle aree di manifestazione è consentito esclusivamente ai possessori di certificazione verde. Ne esistono tre tipologie principali. Certificazione che prova l'avvenuta vaccinazione. Certificazione che prova l'avvenuta guarigione da COVID-19. Certificazione che prova l'esito negativo di test molecolare o antigenico. Saranno inoltre accettate le certificazioni equipollenti per persone provenienti da paesi fuori dall'Unione Europea. Personale formato è a vostra disposizione per chiarire ogni dubbio. Chi non fosse in regola con una delle certificazioni sarà invitato a rivolgersi in una delle strutture convenzionate nei pressi dei principali accessi al quartiere fieristico. Per effettuare un tampone gentilmente offerto da EIMA International. Inoltre, a tutti coloro che entrano in fiera, viene misurata la temperatura tramite termoscanner. L'utilizzo della mascherina è obbligatorio per tutti e sono disponibili numerose postazioni per l'igienizzazione delle mani. Abbiamo incrementato il personale di controllo per assicurare il corretto distanziamento in tutte le aree. Inoltre, è presente un presedio medico costante per l'intera durata della manifestazione. Per darti spazi sicuri, abbiamo potenziato la pulizia e la sanificazione di tutte le aree comuni e dei servizi igienici. Abbiamo incrementato i punti di ristoro e tutti prevedono sedute distanziate e sono favoriti pagamenti digitali. All'interno e all'esterno dei padiglioni, i percorsi e le regole da seguire sono evidenziati da una segnaletica informativa diffusa e garantiamo una reazione adeguata con un continuo ricambio d'aria. Per farti vivere la fiera in modo più sicuro, i biglietti si acquistano online per evitare assembramenti alle biglietterie e monitorare gli accessi. Effettuiamo un controllo costante della capienza. Tutte le attività, gli stand e gli show, sono stati riorganizzati per assicurare il giusto distanziamento. Spettacoli e conferenze prevedono posti limitati, sedute distanziate e gestione dei flussi. Persone sicure, spazi sicuri, modalità sicure. La tua fiera a Bologna Fiere.